Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito proaudiolearning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. Ciao a tutti, iniziamo questo nuovo ciclo di corsi con il mio primo corso basic per cantanti, un corso creato appositamente per insegnare a coloro che vogliono registrarsi in casa al meglio delle possibilità offerte dal mercato entry level. L'idea del corso semplificato per non addetti ai lavori nacque qualche mese fa da una serie di chiacchierate richieste da parte di alcuni amici e amiche cantanti che durante il primo periodo della pandemia avevano improvvisamente necessità di registrarsi in casa, sistemando una struttura semplice e veloce, controllando il rumore dell'ambiente e tanto altro ancora, come suggerimenti su quale microfono scegliere, quale scheda audio o computer, quale software utilizzare, possibilmente gratuito. Così iniziai a dare consigli, prima via messenger, poi via telefono e poi via zoom, ma mi accorsi che spesso, ed è normale che sia così, alcuni di loro non avevano conoscenze basi di recording, né di fisica acustica, né di come allestire o assemblare le varie apparecchiature. Ho raccolto quindi un po' di questi incontri, ne ho scritti di nuovi per creare un corso con diverse lezioni che abbraccino sia nozioni di fisica dedicate proprio al canto, come si muove ad esempio la voce sulle frequenze, la percezione reale del suono, l'uso delle cuffie, come configurare il software di recording e come mixare la propria voce su una base, ad esempio scaricata via internet, oppure come gestire la latenza creata dalle schede audio. Impareremo quindi cosa è un compressore, come si usa sulla voce, come equalizzarla ed effettarla al meglio. In questo mini corso quindi affronteremo tutte queste problematiche e cercherò per quanto possibile di farvi ottenere un risultato con il minor investimento possibile in apparecchiature, hardware e software. Il corso come vediamo è sviluppato lungo circa 35 lezioni iniziali inerenti la configurazione e la scelta delle attrezzature ma anche contenente recensioni e test su quelle determinate attrezzature, oltre all'uso di materiale didattico scaricabile. Il corso rimane comunque in continuo aggiornamento quindi verranno inserite altre nuove lezioni gratuitamente durante tutto l'arco dell'anno e ci saranno seminari sempre gratuiti connessi al corso sul mio canale discord. Vi invito quindi a iscrivervi gratuitamente sulla nostra piattaforma proaudiolearning.com dove potrete guardare qualche lezione senza vincoli e valutare quindi il corso e l'eventuale acquisto. Per tutto l'anno gli utenti dei corsi pro audio learning potranno acquistare questo corso basic con il 20% di sconto attraverso la richiesta di un coupon personale e viceversa gli iscritti al corso basic potranno acquistare il corso studio one prime con il 20% di sconto utilizzando lo stesso metodo. Per ogni info inviatemi un messaggio sulle piattaforme youtube discord o facebook oppure via email a info chiocciola prodiolearning.com. Dopo il corso basic verranno realizzati nell'arco dell'anno il corso professionale per tecnici del suono e producers suddiviso in tre main categories how to listen how to mix e how to master. Vi terrò comunque aggiornati sulle novità. Vi aspetto quindi sul mio canale youtube e sulla nostra piattaforma proaudiolearning.com. Spero che questo video vi sia stato utile vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio nei corsi online sul sito proadiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite oltre a nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su facebook youtube e music off. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto ciao a presto a presto